Buonasera, io sono la signora Salvo Raimonda, parlo a nome di tutti i condominianti che abitiamo qua. Qua sotto non si può sostare, perché? Perché c'è mondezza, portano i cani e non raccolgono, l'erba è altissima, abbiamo animali, insetti dappertutto dentro casa. Non lo so, ditemi voi se vi pare una cosa normale, dategli un'occhiata e vedete un po' voi. Il bidone sta là. Chiediamo al signor commissario che intervenga, perché noi che abitiamo qua, se no ci portiamo a lui a sta qua dalla mattina a sera. Se è possibile, subito.